Se dovessimo esprimere in due parole che cos'è il postmoderno in una formula, si potrebbe definire il tramonto di un mito. L'illuminismo, lo storicismo dell'Ottocento erano vissuti nella convinzione che ci fosse un progresso dell'umanità verso il meglio, che per esempio la scienza e il sapere portassero un'emancipazione dell'umanità e che ci fosse una sorta di sviluppo senza fine. Una serie di contingenze, per esempio di contingenze storiche nel corso del Novecento, per esempio le guerre mondiali, hanno tolto molto smalto a quest'idea di un'umanità che attraverso la scienza, la tecnica e magari anche la filosofia è in un continuo progresso verso il sapere. E quindi hanno tolto quel valore che sta all'interno dell'idea di progresso per cui c'è un bene in sé nell'essere moderno. E questo ovviamente non è soltanto una questione che ha a che fare con la filosofia, anzi si tratta di uno spirito del tempo che si manifesta altrove in altri settori della cultura prima che nella filosofia. Per esempio tipicamente nell'architettura, c'è stata un'architettura postmoderno che aveva aspetti postmoderni anche magari senza saperlo, senza volerlo, già a partire dagli anni Cinquanta. Perché? Perché c'è stata l'idea di rinunciare all'ascesi modernistica, al razionalismo, all'international style, al mondo di Le Corbusier, a questa grande idea di una raffinatezza formale e concettuale che si identificava con la modernità, per ritornare a cosa? Per ritornare agli usi, alle tradizioni, come si faceva nell'Ottocento. Anche nella letteratura c'è stato un postmoderno prima che nella filosofia. È stata un'antologia di poesia latinoamericana del 1934 in cui è stato cognato il termine postmodernismo. Possiamo situare con esattezza una data in cui il postmoderno tecnicamente entra in filosofia ed è il 1979, l'autunno del 1979, quando esce questo piccolo libro di Jean-François Lyotard, un filosofo francese, intitolato La condizione postmoderna. Un piccolo libro che non aveva speciali pretese era un rapporto al governo canadese sulla condizione del sapere nelle società avanzate. Sicuramente Lyotard non si immaginava niente di quello che avrebbe scatenato questo suo libro perché ha introdotto un'autentica rivoluzione in filosofia, o meglio, ha catalizzato su di sé tutto quello che intorno girava. Quali erano le tesi di fondo di questo libro? L'idea era che i grandi discorsi, le grandi narrazioni, dice Lyotard, di legittimazione del sapere, cioè i discorsi che dicevano una società devi star dietro al sapere perché il sapere è una cosa importante, la verità è una cosa importante, la realtà è una cosa importante, avevano perso legittimità. Secondo Lyotard, nella grande società di massa che si era prodotta attraverso innanzitutto i mezzi di comunicazione di massa. Questi grandi discorsi, secondo Lyotard, erano essenzialmente tre. Il primo era il discorso dell'illuminismo che diceva che il sapere è importante perché comporta l'emancipazione dell'umanità, quindi la scienza è buona perché l'umanità si libera attraverso la scienza. Il secondo discorso di legittimazione del sapere tradizionale era quello dell'idealismo che sta per esempio alla base della nascita dell'università moderna in cui si dice che il sapere è importante perché è disinteressato, cioè non mira semplicemente all'interesse dei singoli ma al benessere dell'umanità nel suo insieme. E poi diceva Lyotard c'è un terzo grande discorso, quello del marxismo, che in fondo univa il discorso dell'idealismo con quello dell'illuminismo, un discorso emancipativo per il bene dell'umanità nel suo insieme. Ecco, questi discorsi di legittimazione del sapere vengono meno, sono soggetti ad una crescente incredulità nel postmoderno. Perché? Appunto, alcune giustificazioni storiche sono già abbastanza indicative, perché in effetti nel momento in cui la tecnologia si trasforma in qualcosa che crea delle armi di istruzione di massa, uno può dubitare della bontà della tecnologia. Oppure nel momento in cui si fa avanti una cultura di massa che è indifferente ai temi della grande cultura, della grande cultura, dell'università, dell'illuminismo, si potrebbe dire che quella è la vera cultura. In fondo, se uno pensa a una cosa come la pop art, dice no, guardate, la vera arte non sta nelle ricerche, nelle gallerie, nell'avanguardia, ma sta dentro i nostri supermercati. E' questo che ci dice veramente. Quindi viene delegittimato. E' importante tuttavia tenere presente qual era il contesto culturale che stava dietro a Lyotard. Lyotard era un esponente di quello che solitamente va sotto il nome di post-strutturalismo francese, che riunisce dei pensatori che sono fioriti negli anni 60-70, e che sono stati alcuni tra i massimi filosofi del secolo scorso. Figure come Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida. Il post-strutturalismo aveva elaborato una teoria per cui, diciamo così, l'attività fondamentale del filosofo deve essere quella, in fondo, del genealogista nicciano. Cioè che colui che esercita la genealogia della morale va a vedere dietro ai grandi discorsi, appunto per esempio il discorso del sapere disinteressato, del sapere emancipativo, e analizza e fa vedere che dietro c'è qualcosa che non va, dietro c'è qualcosa di nascosto o di poco pulito, poco apprezzabile. Era appunto il ragionamento che nel 1887 Nietzsche aveva sviluppato nella genealogia della morale e che in particolare Michel Foucault ha articolato sulla base di tre autori essenziali. Nietzsche appunto, Marx, perché si immaginava che anche Marx avesse questa attività di svelatore dei segreti del mondo capitalistico, e Freud. Quindi abbiamo un movimento che, come dire, con un paradosso che era già stato riconosciuto come presente in Nietzsche da Orkheimer e Adorno nella dialettica dell'illuminismo, fa uno strano gioco. Per amore del sapere, per il gusto del sapere, per la volontà di sapere, mostra come il sapere non sia né emancipativo necessariamente, né necessariamente disinteressato e possa essere piuttosto il frutto di pulsioni economiche, alla maniera di Marx, pulsioni inconsce, alla maniera di Freud, oppure pulsioni e aspirazioni alla potenza, volontà di potenza, alla maniera di Nietzsche. E si capisce allora come dentro a questo quadro, dentro a questo orizzonte segnato dalle figure di Nietzsche, Freud e Marx, potesse aguzzare gli strumenti critici che gli permettevano di dire, ecco, la condizione postmoderna è questa, è il momento in cui ci si rende conto che il sapere non è emancipazione, ma potrebbe essere frutto di volontà di potenza, oppure frutto di interesse dei dotti, e comunque non è più un valore in assoluto. Jean-François Lyotard nasce a Versailles il 10 agosto del 1924. Studia all'Università Sorbona, dove ottiene l'abilitazione in filosofia nel 1950. Per due anni insegna in un liceo maschile in Algeria. L'esperienza vissuta nella colonia francese lo porta a interessarsi alla situazione politica delle colonie e a maturare posizioni di tipo socialista. Nel 1954 si unisce al gruppo rivoluzionario Socialismo o Barbarie e, dieci anni dopo, è tra i fondatori di Potere Operaio. Nel frattempo dà alle stampe il suo primo scritto filosofico, La Fenomenologia, breve analisi dell'opera di Husserl e di Merleau-Ponty, che allarga la riflessione fenomenologica alle scienze umane, alla psicoanalisi freudiana e al marxismo. Gradualmente l'autore si discosta dal socialismo rivoluzionario e torna a dedicarsi all'attività di ricerca e di insegnamento nella capitale francese. Nel 1971 ottiene il dottorato con una tesi intitolata Discorso-figura, in cui analizza le complesse relazioni che si instaurano tra il linguaggio e l'immagine nell'arte. L'anno successivo è nominato docente all'Università di Parigi-Van Seine. Ha inizio un periodo di grande produzione intellettuale, nel quale vedono la luce scritti come A partire da Marx e Freud e Economia libidinale, che propongono una radicale revisione delle concezioni estetiche dominanti e del marxismo alla luce dei concetti freudiani di pulsione e desiderio. Nel 1979 Lyotard pubblica la sua opera più nota, La condizione post-moderna, che introduce una categoria interpretativa che diventerà fondamentale nell'analisi della società contemporanea. Nello stesso 1979 in cui è uscito questo piccolo libro di Lyotard, è uscito un enorme libro di un filosofo americano che si chiama Richard Rorty, intitolato La filosofia e lo specchio della natura. Questo libro, che raccoglieva anni e anni di lavoro, non parla mai di post-moderno, cioè non adopera la parola post-moderno, ma è probabilmente la più matura espressione filosofica dei concetti fondamentali del post-moderno. In che senso? Rorty veniva da una tradizione, come ho detto, della tradizione pragmatista americana, quindi molto diverso dai post-strutturalisti. Per esempio, non aveva assolutamente l'intenzione di dire che bisogna smascherare la volontà di potenza che si nasconde dietro al sapere. È un pensatore molto più affermativo e molto più americano che dice, vedete, la cosa veramente importante al mondo non è la verità o l'oggettività, perché una volta che tu ad un'affermazione hai detto che è vera, che cosa stai facendo? Stai facendo semplicemente un complimento, come dare una pacca sulle spalle a una persona. A noi non ci importa di avere delle affermazioni vere, ci importa di avere delle affermazioni utili per la crescita della collettività e dell'umanità. E questo effettivamente è la nozione di verità che era stata affermata già all'inizio del Novecento da un grande pragmatista come William James. E lo stesso discorso faceva Rorty per quanto riguarda l'oggettività. Perché dobbiamo essere così fissati sull'oggettività come se avere a che fare con delle nozioni oggettive fosse la cosa più importante della Terra? Quello che è davvero importante per noi è la solidarietà. Noi abbiamo bisogno di avere solidarietà fra gli uomini piuttosto che l'oggettività. È stata una specie di inganno che risale in fondo a Socrate quando a un certo punto un certo numero di greci ha cominciato a pensare che l'oggettività e la verità fossero il bene sommo invece che il progresso e la solidarietà. A un certo punto Rorty dirà anche, richiamandosi apertamente alla lezione di John Dewey, il prevalere della democrazia sulla filosofia. Per Rorty è più importante la democrazia che la filosofia perché la vera emancipazione umana passa attraverso la solidarietà fra gli uomini, passa attraverso il progresso sociale che non è il progresso scientifico tecnologico e attraverso appunto la democrazia. Rorty in questo libro tracciava una grande storia della filosofia moderna e c'è stata questa ossessione che inizia all'incirca con Cartesio e poi culmina con il Novecento in cui si pensa che la filosofia debba essere una specie di specchio oggettivo della natura, di cui il titolo del libro di Rorty. Ma questa è una cosa che non sta in piedi, è una fissazione. Dobbiamo renderci conto che un'umanità che è diventata veramente consapevole di ciò che davvero conta non cerca più l'oggettività e la verità ma cerca la solidarietà e la democrazia. Vedete, è un discorso che in un certo senso è pieno di buone intenzioni e che ancora conserva un'idea di progresso nel senso che perché l'umanità progredisca bisogna implementare la democrazia e la solidarietà. Tuttavia nel quadro completo il risultato è uguale perché anche in questo caso nozioni come quella di verità come quella di oggettività e in generale tutto l'impianto del sapere viene privato di legittimità perché dice che non sono queste le cose davvero importanti altre sono le cose importanti. Dopo il libro di Lyotara si aprì un enorme dibattito all'interno del mondo filosofico e non solo del mondo filosofico perché appunto trattandosi di qualcosa che riguarda lo spirito del tempo c'è stato di tutto che si è appellato al postmoderno ci sono state persino delle canzoni nel senso di canzonette che si sono appellate al postmoderno quindi è qualcosa che è entrato totalmente all'interno della società e questo non per caso visto che il postmoderno era una riflessione sul venir meno della cultura alta e l'affermarsi della cultura di massa. Anche in Italia c'è stata una importante versione del postmoderno che si chiama normalmente pensiero debole perché è legata a questa antologia che appare nel 1983 e che è curata da Gianni Vattimo e da Peraldo Rovatti e la tesi di fondo non è che ci sia una tesi di fondo dentro a questo libro perché appunto sono impressioni profondamente diverse e profondamente sfaccettate. C'è forse però un elemento che unisce tutti questi contributi e cioè in fondo l'idea che la vecchia nozione di razionalità come dominio e controllo del reale è venuta a meno. Anche questo è un libro molto legato allo spirito del tempo che inoltre dal punto di vista diciamo così evolutivo, cronologico all'interno del dibattito italiano è strettamente legato con un altro libro uscito due anni prima un'altra antologia anche quella uscito due anni prima è curata da un altro filosofo che purtroppo è scomparso Aldo Giorgio Gargani che si intitolava Crisi della ragione. In fondo c'è una continuità tematica e diciamo così ideologica tra la crisi della ragione del 1981 e il pensiero debole del 1983. Cos'è questa continuità? Ma appunto questa idea che risulta quindi coerente con la prospettiva di Liotara circa alla fine dei grandi racconti di emancipazione del sapere, la prospettiva di Rorti sulla necessità di far prevalere la solidarietà sull'oggettività e sulla verità, ecco loro dicono questo i pensatori del pensiero debole in particolare colui che l'ha elaborato in massimo grado e cioè Gianni Vattimo elaborano una teoria secondo cui la verità e la ragione che sono stati tradizionalmente considerati degli strumenti di emancipazione si rivelano in moltissimi casi degli strumenti di oppressione. Quindi piuttosto che inseguire un mito di oggettività che spesso è anche un mito di oggettività scientifica e quindi soggetto alle critiche che la scienza in questa epoca sta ricevendo perché appunto si dice in fondo la scienza è anche espressione di una società borghese che non è certo una società giusta la scienza può essere uno strumento di oppressione la scienza può essere al servizio dei governi e delle multinazionali quindi perché sacrificarci per la scienza quando l'umanità ha bisogno d'altro. Gianni Vattimo aveva sentito moltissimo la lezione di due autori che stanno entrando in questo momento al centro dello scenario filosofico che sono Nietzsche come potevamo immaginare e Heidegger che forse è una presenza più strana. Che cosa fa sì che ci siano questi due autori nell'orizzonte del postmoderno? Beh, Nietzsche è stato colui il quale appunto ha criticato la ragione come espressione della volontà di potenza e ha in fondo cercato le vie di una nuova mitologia un aforisma che veniva sempre citato nell'epoca del postmoderne a cui Vattimo ha dedicato dei commenti importanti è quello che si trova nel crepuscolo degli idoli che si intitola Come il mondo vero finì per diventare una favola dove l'interpretazione postmoderna di questo aforismo è ci siamo liberati della verità siamo entrati in un mondo di fabolizzazione questo mondo di fabolizzazione è del resto il mondo in cui si vive nella società di massa la società di massa è una società di comunicazioni in cui l'essere e l'apparire coincidono in cui non è importante che cosa c'è ma cosa si fa credere che ci sia in cui la simulazione prende uno spazio sempre crescente quindi Nietzsche diventa la guida che ci porta attraverso il postmoderno E Heidegger cosa c'entra in tutta questa storia del postmoderno? Beh Heidegger è stato colui il quale ha detto che non è importante l'oggettività ma è importante che un pensiero si situi nel suo momento storico quindi che si riesca a capire qual è il carattere fondamentale dell'epoca e quindi è uno che dà importanza determinante all'epoca e ai climi quindi diventa filosoficamente rilevante sintonizzarsi con il clima spirituale del postmoderno in secondo luogo è stato anche quello che ha detto fra le tante cose che la scienza non pensa che per esempio la politica è più importante che la scienza vedete che è un po' lo stesso tipo di ragionamento ovviamente in un contesto del tutto diverso che viene svolto da Rorty nella filosofia e lo specchio della natura e del resto nella filosofia e lo specchio della natura Rorty cercava, provava una singolare sintesi molto creativa del pragmatismo di John Dewey con la filosofia di Martin Heidegger quindi questo che è proprio tipico del postmoderno cioè la capacità di creare degli scenari mettendo insieme autori che appartengono delle tradizioni differenti si realizza in maniera esemplare dentro alla filosofia postmoderne di Gianni Vattimo che appunto riesce a mettere insieme Nietzsche e Heidegger e l'emancipazione la cosa importante è che questi autori che erano autori di destra e sono stati letti a lungo come autori di destra in quel momento, nell'epoca del postmoderno vengono, per usare un termine che usava qualche tempo fa, vengono sdoganati a sinistra e si fa avanti l'ipotesi che la più radicale emancipazione sia quella che passa attraverso figure come quelle di Heidegger e di Nietzsche piuttosto che figure come quella di Marx un altro importante filo conduttore si manifesta nel poststructuralismo francese con un libro come l'Antiedipo di Deleuze e Guattari in cui si parla di una rivoluzione desiderante cosa vuol dire rivoluzione desiderante? beh vuol dire che dal momento che la ragione e il sapere sono intrinsecamente degli strumenti di oppressione la liberazione non potrà avvenire attraverso la ragione e il sapere ma dal contrario della ragione e il sapere quindi per esempio dal desiderio quindi quello che avviene in questo scenario mobile del postmoderno è da una parte una commistione di tradizioni appunto la tradizione post-strutturalista la tradizione pragmatista americana la tradizione storicista italiana che si unisce con Nietzsche e Heidegger cioè con autori che erano stati da poco ripresi nel discorso filosofico in Italia ora questo è il quadro generale del postmoderno che se vogliamo è unificato da un discorso di fondo che è l'aspirazione all'emancipazione cioè nel postmoderno la filosofia ha sempre una dimensione estremamente politica intimamente politica e identifica la funzione della filosofia con l'emancipazione uno dirà ma non era l'illuminismo certo in questo la filosofia del postmoderno eredita ancora dall'illuminismo qualcosa cioè l'emancipazione ma rispetto all'illuminismo rinuncia alla convinzione che l'emancipazione possa avvenire attraverso la ragione Gli eventi storici della seconda metà del novecento mettono in crisi i modelli sociopolitici e i sistemi di pensiero che avevano caratterizzato la modernità occidentale Liotar sintetizza questo capovolgimento di valori con il termine postmodernismo Nel ventennio successivo alla seconda guerra mondiale le democrazie occidentali uscite vittoriose dal conflitto attraversano un periodo di complessiva prosperità L'economia ha un rapido sviluppo soprattutto grazie all'industria tecnologica e alla diffusione dei consumi di massa Con lo shock petrolifero dei primi anni settanta però l'ideologia liberista che sostiene l'economia di mercato entra in crisi mentre la produzione industriale registra un brusco calo Il susseguirsi di fasi di crescita e di crisi nei decenni successivi rivela l'inattesa fragilità del capitalismo dando vita a una serie di interrogativi sulla prospettiva di uno sviluppo illimitato Anche i modelli politici ispirati al liberalismo parlamentare vengono fortemente scossi dai moti del 68 e degli anni seguenti che rivendicano forme di democrazia diretta e di partecipazione alla vita politica mettendo in crisi il ruolo delle istituzioni e dei partiti tradizionali Nel frattempo l'Unione Sovietica e i paesi satelliti dell'Europa orientale assistono al progressivo declino del modello economico e politico nato con la rivoluzione russa Le insurrezioni di Budapest nel 56 o di Praga nel 68 mostrano l'inadeguatezza dei regimi comunisti a fornire soluzioni adatte ai problemi della società contemporanea Tra gli anni 70 e gli anni 80 l'immagine dell'Unione Sovietica si va ulteriormente deteriorando a causa della repressione interna e dell'intervento militare in Afghanistan Si avviano così al tramonto gli ideali del marxismo e del materialismo storico che avevano alimentato per due secoli le speranze dei movimenti rivoluzionari Grazie a tutti Grazie a tutti